Speriamo Non ho visto nessuno Vai Bail Grazie Prima ripresa 20 secondi Grazie 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 Sì, pesi massimi, fatte le Olimpiadi, Roma 1960. Sì, pesi massimi, fatte le Olimpiadi. 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 da lontano, da lontano, non lo cercare. da lontano. Ricky, bravo, bravo da lontano Ricky, dai, vai Ricky, dai, dai Ricca, da lontano Ricca, dai Ricca, dai Ricca, dove deve stare attaccato? Dai Ricchia! Grazie a tutti! A distanza! A distanza! Così! No! Non tenerlo vicino! Bravo! Dai Ricchia, è una volta buona! Dai! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!